Situazione poco rosia per l'Abruzzo nel report Spiagge 2023 di Legambiente. L'associazione ha presentato il rapporto Spiagge alla situazione e i cambiamenti in corso nelle aree costieri italiane con un focus di approfondimento sulla situazione abruzzese. Il punto con i relativi dati è stato fatto nella sede di Legambiente a Pescara dal presidente regionale Giuseppe Di Marco e da Silvia Tauro. In particolare l'attenzione è stata focalizzata sui cambiamenti climatici e sulle azioni da intraprendere subito. Il quadro dei cambiamenti delle coste abruzzesi quindi in questo lasso di tempo 2010-2023 ci dice che l'Abruzzo purtroppo è tra le dieci regioni che hanno subito di più il cambiamento negativo del quadro costiero considerando l'impatto dei cambiamenti climatici, i fenomeni erosivi, nonché l'impatto antropico generato quindi dalle necessità economiche legate al turismo e ad altri settori produttivi. Questo è un quadro in cui, mentre da una parte gli eventi estremi, quindi piogge, inondazioni, mareggiate, grandinate colpiscono il nostro territorio in maniera sempre più importante con ormai la media quindi di un evento all'anno, con un'incidenza molto forte soprattutto sui comuni di Pescara e Montesilvano che ricordiamo sono i nostri comuni costieri più grandi e anche quelli quindi con maggiori esigenze dal punto di vista urbanistico e progettuale, d'altro canto c'è un incremento del fenomeno erosivo nonché quindi una forte pressione su quelle che sono considerate aree di esondazione fluviale quindi in particolare la foce del Tronto, la foce del Pescara e la foce del Sangro. A questo si unisce appunto, come abbiamo detto, un quadro della fruibilità della costa ricordiamo 105 chilometri di coste basse in Abruzzo che per il 48% è occupato da concessioni dei Magnali in particolare quindi concessioni legate agli stabilimenti balneari e ai campeggi turistici, ai circoli sportivi. Quali soluzioni? Il Presidente Di Marco chiama in causa governo e regione. Stiamo attraversando una vera e propria emergenza climatica quindi va chiuso a livello nazionale rapidamente il piano di adattamento climatico per porre in essere tutte quelle azioni di mitigazione che poi servono per migliorare la situazione in atto e anche da un punto di vista regionale bisogna fare un passo in avanti rispetto al piano già messo in campo ma soprattutto bisogna ragionare sul fatto che la spiaggia non può essere un tema di accessibilità al 100%. Ci sono degli spazi che vanno preservati, ci sono delle aree di criticità che vanno manutenute e soprattutto chiediamo che sia a livello nazionale che regionale ci sia una ridistribuzione delle concessioni al 50% per ogni comune altrimenti rischiamo che continuiamo a immaginare un futuro che non c'è laddove non è più possibile.